21 anni di grazia, 21 anni di un cammino meraviglioso. Sono le parole di Don Giosuè Lombardo, da 21 anni oggi, parroco della Basilica Pontificia di Santa Croce. Innanzitutto io vi ringrazio ma mi sento anche un poco a disagio perché non avrei voluto questo clamore per 21 anni. Lo so che sono 21 anni di grazia, 21 anni di servizio. Sono stati giovani che forse hanno postato sui social ma io lo vivo nel nascondimento anche se voi mi portate alla ribalta. Io dico 21 anni di grazia, di un cammino meraviglioso perché il cammino di un prete, il cammino di un parroco è sempre segnato dalla presenza del Signore. Poi qui in Basilica il Signore si manifesta come provvidenza nel solco del santo parroco. I suoi primi ricordi? Ci sono ricordi bellissimi, 18 ottobre 2018, e chi lo può dimenticare? Poi il 21 ottobre le celebrazioni a Napoli, il 28 ottobre le celebrazioni a Torre per la canonizzazione, tutta la preparazione, la proclamazione del decreto, del riconoscimento del miracolo del Beato. Insomma, tanti, 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 tanti momenti di grazia, il cammino della parroccia, l'oratorio, l'evangelizzazione, queste sono le cose bellissime. Tanti ricordi, a cominciare dalla canonizzazione di San Vincenzo Romano il 14 ottobre 2018. Un percorso importante, contrassegnato anche da momenti difficili come la tragedia del Ponte Morandi e quelle che hanno segnato tristemente la città di Torre del Greco in questi anni. E poi pensavo a dei limiti, pensavo alle sequie dei quattro giovani del Ponte Morandi, le sequie di Imma del Pollino, le sequie del giovane Giovanni ucciso a Luna Park, insomma, e le sequie anche di tanti bambini e giovani in questi 21 anni. Io per tutto rendo l'odio al Signore, veramente posso affermare con San Vincenzo admirabili dei provvidenza. Com'è cambiata la parrocchia dai suoi inizi a oggi? È cambiata la società, è cambiato il mondo, è cambiata la realtà. Però a Santa Croce rimangono questi due grandi pilastri, San Vincenzo e l'Immacolata. All'interno di queste due celebrazioni abbiamo cercato col Consiglio pastorale, con tutti gli operatori pastorali, di farne dei momenti non solo celebrativi, ma anche dei momenti di evangelizzazione e soprattutto poi il frutto di tutto nella carità, partendo anche, come ho detto altre volte, da quelle periferie esistenziali, le solitudini che sono nel tessuto parrocciale, le povertà, le emarginazioni, perché la celebrazione liturgica deve portare poi sempre all'impegno concreto, fattivo per i fratelli che sono ai margini. L'auspicio e il messaggio alla comunità resta sempre quello di continuare a camminare insieme. Con l'augurio di ancora tanti altri anni qui in parrocchia, quale messaggio vuole rilasciare ai suoi parrocchiani per il futuro? Continuiamo a camminare insieme, continuiamo a camminare uniti, cerchiamo di corrispondere sempre agli appelli che vengono dall'alto, agli appelli che vengono dal Signore. Camminiamo insieme, camminiamo uniti, a gloria di Dio.